Ragazzi, guardate qua davanti cosa abbiamo! Un bellissimo Lugia Shadow contro un Necrozma Totem! In realtà, ragazzi, lo sapete anche voi, Totem non è che droppino qualcosa di così tanto interessante, però me lo sono trovato da davanti, io so che a tanti di voi piace Necrozma e sto notando che è un Necrozma non fastidioso di più, perché non prende danno dai miei attacchi. Comunque, ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio della Pixamon, ragazzi, non prende danno. Vabbè, facciamo una cosa, usciamo perché non ne voglio più sapere Necrozma, io vorrei andarmene. Necrozma, oh, grazie, grazie Necrozma che mi hai liberato, eh. Comunque, proprio bello Totem Necrozma, tutto quanto così oro, che non si fa neanche zoomare, ogni tanto si fa zoomare. Vabbè, comunque, ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio della Pixamon. Oggi, ragazzi, andremo all'interno di una bellissima palestra che ho trovato all'interno di una Mushroom Island e avete capito molto bene, se vi ricordate, negli aggiornamenti scorsi della Pixamon che vi parlavo, nelle Mushroom Island possono spawnare i Pokémon Dark o i Pokémon Shadow o nelle loro versioni super speciali, ragazzi. E ho trovato una palestra molto, 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 molto strana a 16.000 blocchi di distanza. Sono tanti? Sì, ma lo sapete che io durante le giornate, ragazzi, prendo, vado un po', a girovagare in giro per la Pixamon e ho trovato, appunto, questa palestra super, super, super OP. Allora, in più, ragazzi, guardate qua che bello, ora posso smistare le mie chest senza che tutto quanto sia in completo disordine, in subbuglio, premendo un solo tasso. Cioè, guardate qua che aggiornamento incredibile che ha fatto il Bonne Mark nella mod, eh, guardate qua che bomba. Così possiamo andare giù, prendere tutte quante le varie mosse che possiamo utilizzare, dare ai nostri Pokémon e, tecnicamente, abbiamo magari delle mosse carine che potremmo insegnare ai nostri Pokémon per la nostra squadra, ragazzi, appunto, prima di andare nella palestra dei Pokémon tipo Dark. Per esempio, un bel Iron Tail, ragazzi, sul nostro Solgaleo, potrebbe essere un attacco molto utile da fargli imparare. Vediamo, al posto di Sunsteel Strike, eh, allora, Sunsteel Strike ignora completamente le abilità degli altri avversari e toglie 100, precisione 100. Questo ha 100 e accura 65, quindi precisione 75, però, ragazzi, potrebbe diminuire la difesa dei Pokémon avversari. Quindi potrebbe essere un attacco molto, molto utile. Poi ricordiamoci, ragazzi, che comunque, nel caso io avessi sbagliato qualcosina, a voi non piace questo mio cambio, qua sotto nei commenti basta che me lo dite perché posso andare a fargli, direi, imparare nella ultradimensione. Comunque, diamo un occhio se abbiamo altri attacchi. Poi andiamo subito a sfidare la palestra che vi dicevo prima. Abbiamo un bel Fire Spin, Mystical Fire e Fire Fang, tutte mosse, che, tecnicamente, il nostro amico bellissimo, Typhlosion, potrebbe anche imparare, sempre se non abbiamo attacchi troppo più potenti. Allora, abbiamo Burn Up, che toglie tantissimo, toglie 130 e noi glielo togliamo. Inferno, un bel attacco, anche, Mystical Fire, toglie solo 75, quindi per ora no. Fire Fang non può impararlo, ok? Fire Spin nemmeno? Va bene, io mi fido, ragazzi, della Pixamo che dice queste cose, no? Rayquaza puoi tornare? Grazie mille, ok. Poi per Rayquaza queste cose qui va tutto quanto perfettamente bene perché abbiamo Dragon Ascent e queste cose qua. Io direi che, in realtà, siamo già belliche pronti per andare direttamente alla nostra palestrina, vero, signor Carra Blast? Allora, io faccio così, ragazzi. Prendo e premo il punto di teleporting e ci teleportiamo direttamente qua davanti. Ragazzi, noi non abbiamo mai visto una roba del genere. Allora, io già da fuori la analizzerei in qualche modo perché guardatele in alto cosa c'è. Abbiamo un Lunala nella sua versione Dark, nella sua versione Shadow, nella sua versione Halloween. Chiamatela come volete ed è uno spettacolo. Poi, guardate qua, la palestra si presenta completamente violacea in questo modo con dei pilastri che la sorreggono. Ed è molto, molto carina. Lì abbiamo un boss della sua versione leggendaria con degli healer da contare. Ma non solo perché in giro ci sono altri personaggi che hanno la loro versione leggendaria. Quindi è una bella palestra, bella che tosta. E qua che abbiamo? Un Grumping. Ma tu sei bellissimo! Campione! Vieni qua, prendiamo come una Velox Ball questo Grumping. È un Pokémon che non avevo mai visto in vita mia, ragazzi. Se non entro dentro una Velox Ball non sei degno di entrare dentro la mia squadra. Allora, che bello! Non ero ancora mai entrato! Ragazzi, queste qua sono le versioni Halloween di Bulbasaur e di Charmander. Ma che spettacolo, ragazzi, questa palestra qua. Ragazzi, qua dobbiamo lasciare il minimo 5.000 mi piace. Perché qua andiamo a sfidare una grandissima palestra, eh. Allora, parliamo col campione. Gio ci dice, benvenuto nella palestra dei Pokémon oscuri. Ah, interessante, ragazzi. Pokémon oscuri, non c'è nient'altro. Se pronto a una delle sfide più difficili di questo mondo, magari sbloccherai la chiave per una nuova dimensione. Ma in che senso, ragazzi? Una nuova dimensione dove? Cioè, oltre che alla ultradimensione, stiamo per sbloccare una nuova dimensione. Va bene, ragazzi. Ora io non ne voglio sapere nulla. Cioè, in realtà ne vorrei sapere. Oh, calma, calma, calma. Perché noi abbiamo una battaglia contro un Lugia? Che cacchio è? Ah, contro il campione qua, probabilmente. No, do... Aiuto! Aiuto! Sto citando la palestra! Ah! Aiuto! No, non sto capendo un tubo secco, ragazzi. Sono imbrigliato dentro a sta roba. Ma ho balzato una sfida. Ma, ragazzi, ho citato. Allora, non so dove poter andare. Non so dove posso scappare. Di qua posso andare? Ciao, campione! Credo che sia stato lui. Allora, a sto punto, non so se la mia squadra è adatta. Perché loro sono tutti quanti in livello molto, molto alto. E ho visto che c'era uno Shadow Lugia. Allora, facciamo così, ragazzi. Per non saperne leggerne e scrivere. Andiamo qua, Lugia. Nella sua versione Shadow, comunque. Lui è psicovolante, Lugia. Quindi soffre buio, elettro, ghiaccio, roccia, spettro. Potrei provare ad andare in battaglia con... 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 Con Typhlosion. Abbiamo un Lugia al centro contro Typhlosion all'80. Allora, Burn Up. Andiamo di Burn Up e non si è bruciato. Però magari con Inferno potrebbe bruciarsi. Io ci ho fatto un attacco bello cattivo, ragazzi. Bello che l'abbiamo bruciato con Inferno. Ottimo. Poi, 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 poi. Vado di Double Edge. No, niente. Double Edge non ha funzionato. Ma comunque si è preso la scottatura. Dark Kray ha un attacco di tipo buio. Non ha... Che brutti attacchi che ha il mio Dark Kray, ragazzi. Dobbiamo andare assolutamente a migliorarlo nella ultradimensione con questo Dark Kray. Mamma mia, ragazzi. Che brutti attacchi. Qua non ce la facciamo. Se avanziamo no, vabbè. Seppure ha ripristinato la vita. Non iniziamo, eh. Non iniziamo. Io vado pure di ipnosi, ragazzi. Così un po' di danno glielo facciamo lo stesso. Anche se non possiamo addormentarlo perché è già bruciato. Però, facciamo così. Ho magari qualche altro Pokémon in squadra. Lugia, magari ha qualche attacco utile. Shadow Lugia contro Shadow Lugia. Interessante, ragazzi, questa roba. È molto, molto bella. Allora, Psico assolutamente no perché è esistente. Dragon Rush? Toglie normale. Aeroblast pure. Ancient Power. Che tipo roccia? Questo può fargli molto danno. Ok, molto danno che poi è relativo al molto danno perché comunque lui è un Pokémon al 100. Allora, proviamo con Dragon Rush. Mi ha tolto metà vita intanto il campione. Se continua a ripristinarsi la vita però poi qua non finiamo mai la battaglia e il video lo finiamo tra due anni. Vai Rayquaza con Dragon Ascent. Fatti sentire un pochino per favore. Mega Evolviti, ragazzi. Gustiamoci per favore. Questa mega evoluzione del Rayquaza in Mega Rayquaza Shiny che è uno spettacolo. Però mi ha tolto metà vita il campione. Però io glielo ho tolto di più. Ottimo, ragazzi. Ottimo. Perché gli ho fatto Ancient Power? Perché sono così stupido o meno di te? Dalla regia qualcuno mi può confermare perché io stia così? Allora, Dragon Ascent dovremmo farlo fuori, no? Ma ha la vita molto rossa. È pure bruciato un altro Dragon Ascent e lui è morto, ragazzi. Ottimo. L'abbiamo sconfitto? L'abbiamo sconfitto, ragazzi. Molto, molto, molto bene. Allora. Ora, dove andiamo? Perché noi dovremmo andare? Dovremmo andare, dovremmo andare verso di là. Però proseguiamo. No, ne abbiamo un altro. Con un altro Rayquaza? Ma? Allora, fermi un attimo perché... Ah, mega evoluto Rayquaza. Non posso vederlo perché c'è la battaglia bloccata. Ehm, ragazzi, tutto quanto è bloccato. Sto quasi addormentato pure. Io gli faccio un Iron Tail. Ma io vorrei... Volevo vedere un Rayquaza nella sua versione Halloween. Mega evoluto. Dannazione. Non me lo fa vedere. Eccolo qua. Si vede una coda, ragazzi. Bello, interessante la coda. Molto, molto bella. Ho un attacco di tipo ghiaccio qua, se non mi sbaglio. Ice Punch. Super efficace. Sì, ma noi perdiamo la battaglia. Ipnosi che magari lo addormentiamo? Ipnosi! No. Non ce la facciamo, ragazzi. Non ce l'ho fatta. Mi sto muovendo. Aiuto. Non so che appena dove sto andando. Aiuto. Non si capisce un tubo. Ma dove? Mi stanno cacciando. Allora, rimaniamo così alato, ragazzi. Ste palestre sono veramente molto fastidiose, ragazzi. Oh, ce l'ho fatta! Ma come cacchio ci sono arrivato? Buongiorno, signor boss. Io non so cosa dire, ragazzi. Allora, ma perché Rayquaza? Aiuto, ma ci diamo una calma? Aiuto! Ora mi sento meglio con la mia squadra Pokémon, ragazzi. Se non ho visto male, ragazzi. Lui parte subito con Rayquaza ancora nella sua versione Halloween. Quindi è un Pokémon Drago contro Pokémon Drago. Farei Dynamics Cannon. Ok, ora riusciamo a vedere la mega evoluzione della sua versione Halloween, ragazzi. Anche lui è a Dragon Ascent, quindi... Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo, che bello che è. Allora, Dynamics Cannon però dovrebbe fargli più danno. Mamma mia, che bomba che le ho fatto, ragazzi. Tyranitar nella sua versione Halloween. È la prima volta che lo vedo. Vediamo un attimino che versione è, ragazzi, per non sbagliarci. Tyranitar. Allora, vediamo. Lui è Buioroccia. Glotta, Acciaio, Acqua, Coleottero, tutti attacchi che io non dovrei avere qua sopra. Però Fuoco è resistente, lui. Sludge Bomb è resistente. Fly è resistente. Vabbè, proviamo Dynamics Cannon, ragazzi. Comunque un po' di tagliato alto. Mamma mia, ragazzi, che bel Pokémon che ne è. Però Charizard, se noi lo dovessimo a Mega Evolvere con Mega Kick, siamo super efficaci contro di lui. Che comunque, anche se lui ha il 120 con un attacco super efficace, dovremmo fargli un bel po' di danno. Che bella che è questa palestra, comunque, ragazzi. Veramente proprio bella. Mi ha fatto un critico ed era super efficace. Ma mi ha distrutto. Calma. Calma tutti, calma tutti, calma tutti. Graudon dovrebbe avere un attacco che è tecnicamente super efficace. Dovremmo avere anche qua Hammer Arm, che è tipo lotta. E in più abbiamo anche Earthquake, che è tipo terra come attacco. Quindi, con calma. Allora, abbiamo Hammer Arm. Abbiamo anche Earthquake. Ok, non lo ha shottato, ma vediamo se riusciamo a farne un altro. Sì, ok, l'abbiamo fatto fuori. Chi è che ha messo in campo? Oh, che bello! Che bello che è nella nostra versione Halloween. Nella sua versione Shadow. Bellissimo! Allora, oh, oh, vediamo, ragazzi, che Pokémon è. Pokémon fuoco volante, se non mi sbaglio, infatti. Soffre roccia, acqua ed elettro. Attacchi che io non ho con me. Però, ragazzi, non ha nessun attacco utile qua contro questo... Quindi, nel caso, poter andare in battaglia col Dark Ray, fargli un bel ipnosi. Lo addormentiamo e siamo un attimino tranquilli. Poi andiamo di Dark Pass, che comunque un po' di danno glielo può sempre fare. Lui ha fatto calmamente, a quanto ho visto. Però, addormentiamolo ancora. Io quasi quasi andrei solo di ipnosi avanti. No, però, no, non può. Non può ripristinarsi la vita da addormentato, Pixelmon. Non può. Non può. Diamoci, per favore, una calmata. Mi ha shottato. Boh, lui dorme. Mi ha shottato lo stesso. Ok, interessante. Allora, 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 allora. Vado di Necrozma. Vediamo se Necrozma con Prismatic Laser da Ultra Necrozma può fargli un bel po' di danno. Che comunque, gli attacchi tipo Psico dovrebbero essere molto efficaci, tecnicamente. Quindi, con calma, vediamo se è ripristinato ancora la vita. Ma perché? Cioè, lui si ripristina la vita e, in più, non contento, mi fa anche danno. Meno male, abbiamo tolto tutta quella vita adesso, ragazzi. Ancora con Photon Geyser e lo facciamo fuori. Che è che... Eternatus. Ma come Eternatus nella sua versione Dynamax? Non è la prima volta che lo vedo così in battaglia da un allenatore, ragazzi. Ma si ammatti. Eternatus. Subito. È tipo Drago... Poi non mi ricordo. Drago veleno. E soffre, Drago, Accio, Psico e Terra. Uh. Photon Geyser. Siamo super efficaci. Mamma, mi ha shottato, ragazzi. Mi ha shottato. Però Mewtwo. Ah, Future Sight. Che super efficace. Ehi! Future Sight! Fallisce continuamente Future Sight. Va bene, va bene. Ok, va bene, va bene. Perdiamo questa battaglia con questa palestra per questo motivo. Interessante. Psy Strike. Non ce la facciamo, ragazzi. Non riusciamo a sconfiggere questa palestra? Molto probabilmente. Però io ho delle attacche tipo Terra, tecnicamente, con Graudon. Che Earthquake non so quanto danno possa fare a Eternatus. Però dovremmo avere... Beh, proviamo per Earthquake. Un po' di danno io l'abbiamo fatto. Lui non ci ha tolto più di tanto. Quindi facciamo un altro bellissimo Earthquake. Mai fare un critico di Mark, eh. Mai che faccio un critico in queste battaglie. Charizard? In che versione è? No, scusatemi un attimo. È nella sua versione Shadow. È la prima volta che lo vedo, ve lo giuro. Wow. È bellissimo. Charizard, che attacchi li posso fare? Hammer Arm. Mi ha sciolto tutti i Pokémon, ragazzi. Mi dispiace, ma da me non otterrai nessuna coordinata. Cioè, era uscita questa cosa, ragazzi. L'avete letta insieme a me. Non sono riuscito a sconfiggere la palestra Shadow con i Pokémon più forti che ho. Assurda questa cosa. È la prima volta che perdo una palestra o una battaglia con la mia squadra Pokémon in questo modo. Vuol dire che dovrò migliorarla, ragazzi. Grazie ai vostri consigli che mi scriverete qua sotto nei commenti. È la prima volta che perdo con questa squadra Pokémon una battaglia. Prima, prima, prima volta. Wow. Vabbè. Spero che questo video qua, ragazzi, vi sia piaciuto. Datemi dei consigli qua sotto nei commenti che a questo punto leggerò tutto quanto, ovviamente. Vi invito a lasciare un mi piace, un bel commento, scrivere al canale se non avete fatto. uscire uno o due video qua davanti. Vi ricordo che tutti i giorni riescono due video al giorno. 5.30 e 7.30. E da Marche è tutto, ragazzi. Ciao, ciao!